La nostra azienda si occupa principalmente di attività, di manutenzione, installazioni di qualunque cosa. Il cambiamento climatologico si è dimostrato che è relazionato direttamente con l'azione umana delle persone, pertanto la prima cosa che dobbiamo fare è convincere la direzione e convincere al suo tempo tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione e coinvolgerle. Un valore fondamentale della nostra azienda è il capitale umano, pertanto il capitale umano più formato può dare un rendimento migliore e può dare qualità, sicurezza e anche produttività nel lavoro. Energia per crescere è un programma che ci può permettere di incrementare le nostre risorse con personale qualificato e soprattutto un futuro che attualmente non riusciamo a preparare con le risorse attuali. Il motivo fondamentale è che le imprese abbiamo bisogno di risorse nuove perché l'incremento di attività non siamo in grado di coprirla, pertanto è un lavoro stabile, è un lavoro con futuro, è un lavoro che bisogna impararlo e non si può nelle scuole, pertanto candidarsi a un programma come questo ci darebbe l'opportunità di rendere un futuro più stabile per tutti.